Salve a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video Oggi per voi abbiamo la preview di Borderlands 2 Io sono qui con Francesco Ciao a tutti ragazzi Allora oggi vi presentiamo questo titolone Che uscirà al prossimo autunno Nei grandi negozi di videogiochi E dobbiamo dire chiaramente qualcosa Quello che state vedendo, ve lo dico subito prima di iniziare a parlare È la walkthrough, il gameplay diciamo Del Gunzerker Il Gunzerker è una delle quattro classi che ci saranno su Borderlands 2 Delle classi però adesso ci parlerà Francesco Sì esatto Allora come nel primo grandissimo capitolo Avremo quattro classi che ricordiamo nel primo erano il Cacciatore, il Berserker La Sirena e il Soldato Qui invece il Soldato è rimasto praticamente invariato Ha solo cambiato di nome La Sirena è rimasta però ha cambiato aspetto e anche abilità Infatti non diventerà più invisibile Farà appunto una sfera che racciderà il nemico Il Berserker è invece stato sostituito appunto come potremmo vedere nel video Da il Gunzerker La cui abilità speciale è che può prendere due armi Quindi può usare due armi contemporaneamente E poi abbiamo il nuovo Cacciatore Che in questo caso è Zero Che è questa specie di robot con questa spada molto interessante E queste erano le quattro classi Perfetto Quindi abbiamo le quattro classi che ritornano Come nel primo diciamo che la tipologia di classe è la stessa Cioè abbiamo la Sirena Il Badass come chiamato in questo gioco Cioè quello che fa i culi a tutti Cioè sarebbe il Gunzerker basato sulla potenza distruttiva e di fuoco Poi abbiamo il Soldato che sarebbe Axton Che avrà l'abilità chiaramente Perfetto Francesco di lanciare le torbette E poi abbiamo Zero Che è questo assassino che è una specie di cacciatore Che è specializzato nel combattimento con la spada E a distanza con il cucito dal cecchino Questa missione di questo gameplay si chiama Safe and Sound E quello che ve lo dico subito Quello che devono fare i nostri eroi Sono quello di andare a trovare una safe Cioè una cassa contenente delle foto di Mad Moxie Un personaggio che ricordiamo che era presente In un DLC di Borderlands il primo capitolo Che si chiamava Mad Moxie's Underdom Riot E era un DLC in cui eravamo in un'arena E c'era questa Mad Moxie che ci dava le missioni Quindi i protagonisti anche del primo capitolo Torneranno in questo secondo Per esempio abbiamo visto Mordecai Che ritorna con Blue Wing Chiaramente non giocabile Ma solamente per darci missioni Come RPG Esatto ci saranno anche dei cameo Dei vecchi personaggi Che fa sempre piacere Cameo Cameo alle torti Allora Quindi Devo dire una cosa della mappa Che è molto importante La mappa non sarà più divisa Come nel primo capitolo In varie regioni Cioè in varie mappe Diciamo Chiamiamola mappa perché Cioè non ci saranno più i caricamenti Quando si fa la transizione da un posto a un altro Ma il pianeta di gioco sarà Il pianeta di gioco Ricordiamo che il gioco è ambientato sul pianeta di Pandora Come nel primo capitolo In cui però ci sono aree ancora inesplorate Che non abbiamo visto nel Borderlands 1 E che vedremo invece in questo titolone Si preannuncia quindi già per ora un capo alla voce Un gioco degno di strima sicuramente Quindi non ci saranno più quei fastidiosi caricamenti E la mappa sarà tutt'una Tutto il pianeta di gioco E questa è una cosa molto positiva no Francesco? Sì esatto Poi anche possiamo dire che come il primo capitolo Il gioco è basato Diciamo principalmente per L'online Il co-op Quindi con più persone In questo caso un massimo di 4 giocatori Quindi si potranno scegliere tutte le lassi Però naturalmente ci sarà anche la campagna principale Che mi ha preso a me In Borderlands 1 L'ho giocato e non mi ha dispiaciuto affatto Addirittura qui dicono che è stata migliorata Anche con molte nuove aggiunte Quindi ben venga Bene parliamo dell'aspetto più importante di Borderlands 2 Innanzitutto ecco scusatemi Prima di parlare di questa cosa Abbiamo visto il boss Il boss che conteneva chiaramente di fine livello Che conteneva la nostra cassaforte Chiamiamola così dove c'erano queste foto Molto piccanti Vi volevo dire che questo titolo sarà sempre sviluppato dalla Gearbox Software E sarà invece distribuito da 2k games 2k games E volevo parlarvi quindi dopo avervi detto questo Delle armi Perché è l'aspetto più importante del gioco Visto che è uno sparatutto Mischiata a un RPG Quindi con componenti action E di role playing game Di GDR Ecco di gioco di ruolo Visto che ci saranno le missioni I personaggi che ci daranno le missioni Eccetera eccetera Le armi sono l'aspetto più importante del gioco Ce ne sono tantissime Gagiglioni Come specificato nel trailer di gioco Che è uscito poco tempo fa Qualche mese fa E quindi ritornano in una grande veste E ritornano anche le marche delle armi Che sono probabilmente le stesse Ritornano i duelli PvP Player vs Player Come possiamo vedere in questo momento I duelli E Francesco ci vuoi parlare te delle armi o Beh no Delle armi che cosa possiamo dire Che innanzitutto sono moltissime rispetto al primo capitolo E comunque già nel primo capitolo Ce ne erano tantissime Ma soprattutto Molto più fondamentale Sono molto diversificate Infatti nel primo capitolo sì C'erano molte armi Però Alcune veramente erano tutto uguali Cioè cambiava solo il nome Però diciamo che la base fondamentale Sì fondamentale era quella comunque la base Invece in questo secondo capitolo Abbiamo visto delle armi assolutamente Molto diverse tra loro E quindi poi anche con il numero delle armi che sono Appunto sarà divertentissimo Chiaramente non è stato fatto sicuramente un grande lavoro Perché vi spiego Le armi in Borderlands sono così tante Perché c'è un generatore casuale Che praticamente nel primo Questo parlo del primo capitolo Anche nel secondo c'è Ecco abbiamo sentito la solita frase Badass Che ripetono sempre Perché in questo gioco il concetto di badass Che sarebbe tipo nemici potenti È molto frequente Ora questo solo per dirvi Continuo a parlare dell'argomento Di cui vi stavo parlando Quindi è questo Questo generatore Chiaramente cambia il colore delle armi Le statistiche Quindi la potenza Il ratio di fuoco Queste cose qui E però le diversifica Sì per il colore Queste cose qui Però non le diversifica in modo Cioè non le diversifica in modo particolare Quindi noi vediamo sempre la stessa arma E poi ce ne rendiamo conto Io per esempio Ma io sono sempre Anch'io eh Ho giocato in Borderlands 2 Moltissimo E mi sono fatto La storia Borderlands Sì Borderlands 1 E spero che la storia Chiaramente sia rivista Siano aggiunte molte missioni Anche se qui Avrà una longevità Già molto elevata E le armi Chiaramente come ha detto Il nostro Francesco Devono assolutamente Obbligatorio Essere riviste Essere chiaramente Aggiunte Cosa che è già stata detta Se avete visto Partecipato Cioè visto più che altro Le 3 Nella presentazione Di Borderlands 2 Con il CEO Di Gearbox Software Avrete sicuramente visto Che ha vinto Il Guinness World Record Per il numero di armi Maggiore in un videogioco Questo è verissimo Chiaramente Noi chiaramente Ci aspettiamo Che siano State modificate Rese diverse E la cosa Che mi è entusiasmato Di più Da quello che abbiamo visto Finora È stata sicuramente Le abilità Dei personaggi E gli alberi Gli skill tree Sarebbero Gli alberi Delle skill Delle abilità Sì esatto Infatti anche di questo Dobbiamo parlare Perché anche nel primo Potevamo Migliorare Diciamo Le abilità Del personaggio Però qui Anche l'albero Delle abilità È stato Completamente rivisitato Infatti avremo Tre rami E noi potremmo Appunto decidere Di specializzarci In uno di questi rami Che appunto Andranno a migliorare Notevolmente Il nostro personaggio Molto di più Di quanto non faceva L'albero Delle abilità Nel primo abilità Sì Quindi Resta Ancora un po' Da dire Quindi Siamo quasi giunti Alla conclusione Di questa Di questa preview L'ultima cosa Che vi dico È che Potremmo decidere A un certo punto Del gioco Se Nel skill tree Migliorare Migliorare Il Migliorare La nostra abilità Tipo la torretta Di hackstone O l'abilità Di tenere I due armi Del gunzerker Invece che Migliorare Le abilità Del nostro personaggio Ora Purtroppo Vi dobbiamo lasciare Facciamo i saluti Finali No Francesco Sì Diciamo che Vi rimandiamo Come sempre Quando c'è una preview Alla vera e propria Recensione Che sarà appunto Appena uscirà il gioco E Salutiamoci Esatto Ci vediamo Alla recensione Di Borderlands 2 Ciao a tutti Ciao Ciao